E' un altro importante progetto che vede coinvolta la sua associazione, ma non solo. A che punto è la costruzione del centro che lo scorso anno, proprio di questi periodi, è stata posata la prima pietra? Guarda, di questo posso dire con grande orgoglio e con grande piacere che abbiamo bruciato le tappe. E posso dire che la notizia è proprio di oggi che si era verificato un intoppo a livello amministrativo che è stato risolto. E proprio oggi l'ufficio tecnico, tramite il nostro tecnico, abbiamo avuto la notizia che questo intoppo amministrativo è stato superato. E per cui il centro polifunzionale che è iniziato l'anno scorso, la prima pietra è stata posta proprio nel mese di luglio, il 7 di luglio. Il 9 di luglio sono iniziati i lavori e posso dire che oggi il centro è finito nella sua parte grezza. E credo che in questi giorni, avuto questa proroga, da parte dell'ufficio tecnico, in questi giorni inizieranno i lavori per quanto concerne gli imbianti idraulici e gli imbianti elettrici. Quindi se non ci saranno altre problematiche, credo che per la fine dell'anno, se i lavori saranno svolti in maniera celere, per la fine dell'anno il centro nella sua parte, anche con pavimentazione, anche con gli impianti, sarà finito e resterà soltanto da terminare la parte esterna. Diciamo che per la parte esterna abbiamo bisogno di un aiuto, anzi io colgo l'occasione tramite Celendo Channel, se mi consentite, di poter lanciare un appello per tutte quelle persone solidali, per tutti coloro che vogliono darci una mano, perché il centro non è un centro grandissimo, ma è un centro abbastanza grande, consta di ben 300 metri quadri, con una parte della struttura di vita a laboratori per le più varie attività, svariate attività, di circa 120 metri quadrati, solo questa parte qua. Poi ci saranno la restante parte munita di tutti i servizi, ufficio amministrativo, cucina, menza, e poi c'è un'area pertinenziale affinché i ragazzi possano anche riposare qualora qualcuno di loro lo vogliono. La parte pertinenziale è di circa 80 metri quadrati e in cui verranno, o meglio verranno, sono state già ricavate tre stanze con tutti i comfort. Quindi è un centro che ritengo sia bello da vedere e molto pratico e utile per tutti coloro i quali potranno accedervi. Sì, abbiamo un sito internet Orizzonte Onlus Agropoli, su questo sito ci sono vari riferimenti e poi c'è anche la pagina Facebook su cui possono coinvolgere o convergere tutte queste cose. Quindi non solo contattare l'avvocato Spinelli ma o interfacciarsi con il sito internet oppure con la pagina Facebook dove ci sono appunto dei riferimenti. Un'ultima cosa e questo lo posso dare sin da subito perché lo ricordo a memoria in quanto io ho cercato di divulgarlo quanto più possibile, è il 5x1000 perché noi grazie al 5x1000 e al contributo dei soci siamo riusciti a realizzare il centro. E quindi il 5x1000 può essere donato e io in questo momento vi posso dare il codice fiscale. Il codice fiscale dell'Associazione Orizzonte è 911-06-055. Benissimo e con questi riferimenti, con l'augurio che davvero ci possa essere qualche buonanima che possa aiutarvi a realizzare questo sogno. Noi ci lasciamo per il momento ma speriamo di rivederci al più presto per l'inaugurazione del centro e magari perché no continuare questo progetto interessante del corso di pizzaiolo per ragazzi speciali. Grazie Avvocato. Grazie a voi.